Oggi parliamo di GS Arbor insieme a Stefano Gerosa, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per averci invitato. Allora facciamo un po' il bilancio di questa stagione sportiva. Un bilancio assolutamente positivo. Noi ci siamo già visti l'anno scorso qui, dove abbiamo parlato dei nostri progetti di crescita e consolidamento e non so se ci abbiate portato fortuna o che cosa, ma ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo. Siamo ancora in grande crescita quest'anno, sia per quanto riguarda il mondo del basket maschile, dalle scuole materne con i micro-basket fino a due squadre senior passando per tutte le categorie di mini-basket e di giovanili e in più in grande crescita anche la parte femminile, dove siamo riusciti a raddoppiare ancora i numeri e dove siamo riusciti a mettere in piedi una formazione di Serie C femminile che ha partecipato al campionato quest'anno con ottimi risultati, forse anche più in là delle nostre aspettative e appunto questo processo di crescita che non so se sia stato anche un po' merito nostro, ma ha fatto innesco in tante altre realtà, perché è bello a dire che se Arbor è cresciuta come numeri, altra società hanno iniziato a fare anche loro, ad avere anche loro una sezione femminile. Noi come obiettivi ci eravamo posti l'anno scorso di essere un po' da innesco anche per il movimento reggiano, accogliendo ragazze ai mini-basket di altre società per venire a giocare con noi, restando poi nella loro società di appartenenza e provare a fare queste partite insieme ha fatto sì che da tre società che eravamo prima su Reggio Emilia, che avevano mini-basket, adesso siamo riusciti a fare quest'anno con il CSI due campionati di mini-basket, uno a nove squadre, l'altro con otto, con ottimi risultati. Quindi ci piace un po' pensare anche a dirigenti di altre società che hanno detto vedendo noi si può fare e l'hanno fatto. E allora insomma l'obiettivo è stato centrato. Le volevo chiedere quindi adesso quanti sono gli atleti che praticano con voi? Allora siamo come mini-basket, abbiamo sfondato un muro dei 120 iscritti partendo appunto dalla materna per tutte le elementari e quasi 40 bambine. in più le bambine stanno crescendo, quindi sono ragazze, abbiamo anche una squadra del settore giovanile che è stata l'unica, siamo stati l'unica società a fare il campionato under 13 con la FIP, con la Federazione Italiana Pallacanestro e dei giovanili invece dei maschi siamo lì anche sopra i 100 atleti più due squadre senior maschili perché vogliamo essere, vogliamo dare ai nostri giovani la possibilità di provare a misurarsi anche con con il mondo senior e appunto la squadra di 13 femminile che ci sta dando grosse soddisfazioni. Molte soddisfazioni. Quindi anche dal punto di vista proprio agonistico e sportivo mi sembra di capire che questo campionato ha portato i suoi frutti. Sì, siamo partiti con la prima partita e la prima vittoria, quindi bello. Poi quattro sconfitte di fila e poi dopo si vede che doveva esserci il tempo per... L'assestamento. Esatto, l'assestamento tra un nuovo allenatore e un gruppo che era già in parte consolidato, abbiamo vinto 11 delle successive 13 partite che 11 su 13 non può essere un caso, quindi una bella sinergia tra allenatore Tagliavini e il gruppo di ragazze che è un gruppo splendido e ha portato a deriver le off. Ma mi permette la cosa più bella secondo me che è valsa più di successo, a fine stagione a me piace un po' le idee così, quando ho proposto alle ragazze senior di fare un'amichevole mista con il nostro gruppo Under 13, la risposta loro è stata per le ragazze questo e altro. E questa è la cosa per me più bella perché vuol dire che c'è un progetto che cammina e cammina insieme. E che viene sostenuto. Ecco, obiettivi per la prossima stagione e sostanzialmente immagino starete già progettando. Sì, sì, stiamo già progettando. Prima cosa è il consolidamento perché a noi piace sognare, guardare in alto ma con i piedi piantati ben per terra perché ci rendiamo conto che sempre più bambini e bambine ci credono. Noi abbiamo parola grossa un pochino in mano i loro sogni che ci danno e quindi noi dobbiamo essere per forza di cose presenti e presenti in un certo modo. Il trend è quello di crescita, quindi stiamo anche cercando di ampliare il nostro staff. Ringraziamo anche la Fondazione per lo Sport perché è attenta alle nostre richieste che sono di continuamento di spazi di palestra. Adesso dove vi allenate? Adesso ci alleniamo alla palestra Guidetti ex Gille, in parte alla Casoli. Abbiamo qualche turno un po' in giro spasso, qualche turno alla palestra dell'Iti, qualche turno alla palestra della Osta, qualche turno a Secchi. Stiamo cercando di... Di avere anche una struttura più fissa. Esatto, sì, quello sarebbe l'ideale, quello è il nostro sogno, però stiamo vedendo che ci stanno dando effettivamente un occhio di riguardo. Da che età, lo ricordiamo ai telespettatori, iniziate a fare attività e quando sarà possibile appunto poi iniziare a fare attività per il prossimo campionato? Noi siamo sempre aperti, noi partiamo con il micro basket che è un avviamento ovviamente più ludico che tecnico, ma che avvicina allo sport dai quattro anni, quindi già dalla scuola materna. Bambini e bambine. Bambini e bambine lì insieme, senza limite di età, poi tutte le categorie di mini basket di giovanili. Le prove ci sono tutto l'anno, anche ieri sono arrivate altre quattro bambine a provare. Quindi possono essere insegnite sempre. Esatto. La cosa bella che mi preme, oltre a questi gruppi maschili e femminili, come Arbor ci teniamo a essere presenti anche sul territorio. L'hashtag be Arbor per noi vuole essere un modo di essere, di lavorare anche molto inclusivo. Infatti teniamo molto alla nostra squadra di ragazzi con bisogni speciali, l'Arbor Dream Team, che è una squadra di 20 ragazzi che ci danno dentro. Ed è sempre un piacere. Quindi l'avete fatta voi questa maglietta, questo disegno. Esatto, il disegno è fatto dal papà di un bimbo di mini basket che alleno io, ci siamo messi lì. È bello, è bello. Ecco, io mi ritengo anche fortunato perché ho un gruppo di genitori splendidi, che non è mai scontato. Però partecipano alla vostra attività. Partecipano, ci spronano, ci sono vicini, condividono la nostra metodologia, è proprio bello. Prima di salutarla, un'ultima domanda, poi se vuole appunto raccontarci qualcosa in più della vostra attività. La domanda è questa, lei ricordava, è una rubrica, facciamo la fondazione per lo sport, anche per capire quali sono un po' le esigenze delle società che voi rappresentate in un rapporto diretto. Ma insomma, le faccio anche io la stessa domanda, di cosa avete bisogno adesso come società? Ah, quello che come società è compatibilmente con tutta l'altra società perché ci rendiamo conto che siamo davvero tanti gli enti che promuovono sport a Reggio Emilia. E questa è una grandissima ricchezza. Gli spazi in palestra per noi sono vitali, sono vitali per una questione di logistica delle famiglie. Sono padre anch'io di tre figli, so che vuol dire portare in giro un bambino da una parte all'altra e tante volte... Quindi spazi per allenarli. Esatto, quindi sì. Prossimi appuntamenti, sempre in palestra siete? Noi siamo sempre in palestra, sette giorni su sette, anche nei weekend. Farete dei tornei estivi oppure andate direttamente a... No, no, parteciperemo a qualche torneo estivo per varie categorie, sì, maschile, femminile, con bimbi, con ragazzi, con tutto, perché loro ci chiedono e noi siamo contenti di dare. Grazie per essere stato con noi, per averci raccontato della vostra attività. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.